Ogni riferimento a fatti ai studenti è evolutamente causato. Tutti i provvedimenti disciplinari sono realmente riportati nei documenti scolastici. Si lecchina quindi ogni responsabilità al diritto interessato. Tu mancha! Tu mancha! Lei sta mangiando? No, lei non sta mangiando Consideriamo il primo principio sull'ambiente Lei ancora sta mangiando? Sempre la stessa merendina Scrivere questo primo principio no? Faccio il tappo Vabbè però continuiamo a cercarlo tanto fare lezioni con Giulio cercare tappi è la stessa attività La stanza per poi piccolare la disposizione la disposizione la disposizione la disposizione la disposizione la disposizione Ma come? cosa sta combinando? In un altro ambiente che ha solo strami termici sarebbe uguale a dzinto All paths come vedo quello che stai dicendo? perché lei lo mette in dubbio assolutamente no, si www.ilical.com si io se non buon